ad appena 31 anni è morto michael basile ex judoka e fratello maggiore di fabio basile oro olimpico a rio 2016 ed ex concorrente del gfb e ballando con le stelle tutti ricordano mike come una persona buona e sensibile la drammatica notizia è stata diffusa da mamma tiziana di seguito anche fabio basile ha scritto sui social delle parole per ricordare il fratello ciao mike sangue del mio sangue ti ho voluto bene mi mancherai tanto la mamma ha aggiunto ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia eri così piccolo e fragile e anche da grande lo eri duro fuori e tenero dentro lo scorso venerdì i familiari di michael lo avevano chiamato ripetutamente senza ricevere alcuna risposta cresciuta la preoccupazione sono arrivati a casa sua trovandolo già senza vita il fratello dell'ex concorrente del gfb sarebbe morto presumibilmente per via di un arresto cardiaco l'autopsia stabilirà la causa del decesso ricordatevi di lasciare un pollice in su per noi è importante grazie per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella